Temporaneo aumento della pressione sul centro nord Italia, con flusso ancora prevalentemente occidentale, nel complesso mite e a tratti più umido fino a mercoledì. Tra giovedì e venerdì il flusso perturbato atlantico tenderà nuovamente ad abbassarsi di latitudine, permettendo il transito di alcune perturbazioni. Martedì 7 novembre poco nuvoloso, con addensamenti sull'Appennino e sul sud della regione. Su queste zone non si escludono locali piogge. Venti di libeccio fino a forti sulla costa settentrionale e sui rilievi, moderati nell'interno. Mari molto mossi a nord di Capraia, mossi a sud, temperature in calo. Sul territorio provinciale sereno o poco nuvoloso. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 11, massima 17 gradi. A Castelnuovo e zone montane, minima 8, massima 15 gradi. A Viareggio e sul litorale, minima 14, massima 18 gradi.